Metaverso, realtà virtuale e intelligenza artificiale al servizio delle aziende. Si è aperto oggi, 12 maggio, nella Chiesa della Santissima Annunziata dei Servi, il VI Summit del Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale e Imprenditori. Molte le sfide da affrontare di fronte a una tecnologia che si fa sempre più preponderante. Sicuramente ci sono tanti punti oscuri ancora da capire, ancora da conoscere per comprendere bene come muoversi nel mondo del digitale, ma altrettanto sicuramente possiamo dire che ci sono tantissime opportunità di business anche per le nostre aziende. Oggi si parla di Society 5.0, dove c'è la resilienza, c'è la sostenibilità e c'è la centralità dell'uomo. Questo processo va accompagnato e va diffusa anche a una cultura specifica. Una sfida importante e globale alla quale le nostre aziende non possono tirarsi fuori. Bisogna considerare che paesi importanti come Cina e Stati Uniti hanno messo in campo risorse pubbliche importanti per dare una spinta allo sviluppo di queste tecnologie che le ritengono fondamentali per la competizione mondiale. Noi sotto questo profilo siamo ancora un po' indietro, però stiamo lottando con il governo attuale per avere una nuova versione del famoso effetto leva che si è creato con Industria 4.0, ovvero Industria 5.0 che permetterebbe anche alle PMI, che sono quelle che potrebbero restare un po' più indietro, di avere dei fondi che possono utilizzare per sviluppare o per capire come utilizzare queste nuove tecnologie. Attualmente sono un buon 25% le aziende che iniziano a utilizzare questi strumenti di nuova generazione e le previsioni per il futuro prevedono una crescita esponenziale.